Sono qui all'evento per prendere conoscenza di alcuni prodotti nuovi della line-up Yamaha. Soprattutto la curiosità verteva per gli speaker a colonna, modello VXL, che avevamo intenzione di introdurre in alcuni progetti che stiamo elaborando. Trovo che sia interessante anche perché tende a portare e forse allargare la curiosità da parte del mondo esterno verso i prodotti Yamaha. Abbiamo avuto modo di ascoltare i prodotti, quindi un bel evento.